Ciao a tutti tifosi ferrarevi, sono Carlo Porfiglio, nuovo giocatore di Ferrara Basket 2018. Sono molto contento di essere arrivato fin qui. Ho tanta voglia di dimostrare e giocare con la maglia di Ferrara e spero di poter contribuire a riportare Ferrara dove merita. Vi aspetto numerosi dal palazzetto. A presto! Ciao a tutti!